bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi questo è un video veramente molto molto importante per tutti coloro che apprezzano questo canale per tutti coloro che amano seguire le mie live o che comunque mi supportano ogni giorno in tutti i modi possibili ed immaginabili finalmente ragazzi abbiamo delle date per degli incontri ufficiali in collaborazione ragazzi con trust e con euronics volevo dirvi ragazzi che il 30 giugno di pomeriggio indicativamente dalle ore 13 fino alle ore 17 17 e 30 mi troverete nell'euronics del centro commerciale vulcano di sesto san giovanni troverete me troverete la pami potremo fare le fotografie insieme potremo firmare gli autografi potremo anche chiacchierare eventualmente se ne avete voglia ma soprattutto avremo due postazioni da gaming che gentilmente euronics e trust metteranno a disposizione dove giocheremo in coppia a fortnite una la occuperò io una la occuperete voi a rotazione e questo è il primo primissimo evento ufficiale ce ne saranno altri due ma non sono ancora state rese pubbliche diciamo le date anche se io le so quindi aspettiamo un attimino e per questo io vi invito a venire in tantissimi portateci i vostri genitori portateci la vostra famiglia con la scusa di andare a fare la spesa al centro commerciale voi vi infrattate di prepotenza dentro l'euronics mi troverete lì con la pamina e vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video spero di conoscervi in tantissimi spero di avere la voce per potervi parlare noi ci vediamo presto ciao ciao